Continua a preoccupare la situazione incendi nella Locride, decine agli interventi dei vigili del fuoco dei vari distaccamenti negli ultimi giorni. Solo ieri le squadre di soccorso sono intervenuti a Mammola, Canolo, Agnana e Grotteria. Il problema principale sembra essere l'estensione dei roghi, in diversi casi si è infatti persino ottemuto che le fiamme potessero lambire abitazioni ovili. Fortunatamente l'intenso lavoro dei pompieri ha scongiurato il peggio. La situazione resta però critica, specie perché i mezzi aerei sono impegnati sul fronte siciliano. Tuttavia, le locali squadre dei vigili del fuoco sono coadiuvati da elicotteri e personale specializzato. Segnalazioni di incendi sono registrate anche in zone impervie, che hanno reso difficile l'accesso via terra. Al momento le energie dei soccorsi sono concentrate a Mammola, dove un esteso rogo, alimentato dalle alte temperature e dal vento, si è distribuito su di una vasta zona di macchia mediterranea. Ricordiamo che è talmente preoccupante il fenomeno che operativa dal 9 luglio scorso nella prefettura di Reggio Calabria l'unità di crisi attivata dal prefetto Michele Di Bari per fronteggiare l'emergenza incendi. Le istituzioni condannano fermamente le azioni dolose, si confida così nelle segnalazioni di cittadini per far luce su eventuali casi di dolo. E ci si auspica che vengano messe in atto tutte le azioni di prevenzione.